In vista delle prossime elezioni politiche siamo qui con Laura Boldrini, ex portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, candidata con CEL alla Camera per la Sicilia 1 e per le Marche. E anche la Sicilia 2. La prima domanda è perché ha scelto di candidarsi con CEL in Sicilia? Beh, e allora intanto perché candidarmi? Cominciamo ab inizio, come si dice, candidarmi perché di fatto Nicchi Vendola mi ha chiesto proprio di unire le forze su un progetto nuovo di società, a partire dalla tutela dei diritti dei più deboli. Siccome io in questi anni di lavoro alle Nazioni Unite, 24 anni, appunto mi sono occupata proprio di questo, di dare voce ai senza voce, alle persone più vulnerabili, lui mi ha chiesto appunto di essere in questo progetto perché secondo lui io rappresentavo la difesa di questi diritti e dunque mi ha messo un po' con le spalle al muro perché avrei potuto dire di no, ma visto che ero molto indignata con l'andamento generale della politica, con il fatto che la politica si era distanziata dalle persone, con il fatto che non rappresentava la politica il meglio della società, quell'Italia che c'è ma non si vede, che si è tenuta da parte, non aveva appunto un'espressione della politica, ho pensato che nel momento in cui mi veniva chiesto non potevo rifiutarmi, veramente devo dire per senso di responsabilità perché il mio lavoro mi appassionava, il mio lavoro era interessante e anche molto bel retribuito, dunque io non ero in cerca di nessuna collocazione, l'ho fatto perché vedo anche nella mia famiglia quanto quest'Italia oggi immobile incida proprio nello svolgimento del futuro. Visto che lei conosce così bene il tema dell'immigrazione, secondo lei come può risolversi in maniera definitiva il problema di Lampedusa, visto che l'isola soffre anche in queste ore, in questi giorni ci sono continui sbarchi? No, allora intanto io penso che la migrazione è un fatto strutturale della mobilità, cioè la migrazione è l'espressione umana della globalizzazione, la globalizzazione vuol dire accelerazione dei movimenti di tutto, di merci, capitale, di notizie e anche di persone. Via mare arrivano quasi sempre i rifugiati, le persone che fuggono dalle guerre, dalle violazioni dei diritti umani, quelle che non hanno scelta, quindi direi che questo fenomeno va gestito con senso di responsabilità. Nel 2008 si parlava di Lampedusa come di un modello di accoglienza, arrivavano i migranti, venivano accolti e poi trasferiti nella terraferma. Ecco, questo modello è stato distrutto dalla politica leghista che ha voluto creare caos, perché il caos del 2011, a seguito delle primavere arabe, quelle immagini terrificanti di migranti che erano troppi sull'isola, che non avevano un rifugio, un riparo, che non avevano servizi igienici, questa situazione si poteva evitare. Non è stata gestita al meglio perché si voleva creare il caos a Lampedusa. Nei suoi giri per la campagna elettorale qui in Sicilia, quali sensazioni, quali prospettive pensa che possa avere la Sinistra Ecologia e Libertà alle elezioni di domenica e lunedì? Beh, intanto diciamo che girare per la Sicilia è già abbastanza complicato. Io sto facendo una campagna elettorale on the road, cioè ogni giorno maciniamo centinaia di chilometri, cerchiamo di passare in tanti più luoghi per incontrare le persone, per ascoltare i bisogni proprio delle persone. Incontriamo i sindacati, le associazioni, disoccupati, casta integrati, giovani. Ecco, vedo che c'è bisogno di cambiare nell'isola, vedo che la gente è stanca. Si rende conto che se oggi l'isola è così e in queste condizioni è perché è stata portata a queste condizioni. La persona che ha governato di più negli ultimi vent'anni in questo paese si chiama Silvio Berlusconi e credo che Silvio Berlusconi dovrebbe assumersi le sue responsabilità anche in Sicilia, anziché pretendere che tutto questo sia accaduto per caso, come se lui fosse stato negli ultimi vent'anni in vacanza all'estero. Lui è stato in Italia, ha governato e ha oggi, come dire, le maggiori responsabilità di quello che accade in Italia. Essere anche italiani all'estero, essere stati italiani appunto che hanno viaggiato e lavorato all'estero in questi anni è stato molto difficile perché c'è stata una terribile crisi di credibilità del nostro paese. Gli italiani all'estero sanno bene quanto scherno c'è stato sul nostro paese in questi anni perché il nostro paese è stato reso noto alle cronache solo per gli scandali della politica e per la vita privata dell'allora Presidente del Consiglio. Quindi c'è da ricostituire una credibilità di questo paese con una politica seria, una politica anche del Mediterraneo, specialmente dico in Sicilia. La posizione della Sicilia è proprio la posizione ideale affinché ci sia un rilancio della politica nel Mediterraneo. Della politica però, allora io mi aspetterei una politica italiana che mira a rafforzare il processo democratico attraverso quella che si dice l'institutional building, ma non solo per prestigio internazionale, perché questa è la base poi sulla quale si può lavorare, cioè una volta che c'è l'affermazione dei diritti, in questo paese si lavora una volta che i processi democratici vengono effettivamente rafforzati, poi sì c'è la possibilità di avere nuovi mercati, nuove opportunità, nuovi scambi, joint ventures che andrebbero nell'interesse di tutti. Io ho incontrato gli armatori, i pescatori, sono loro i primi a chiederci, più politica affinché si possa lavorare insieme con la sponda sud del Mediterraneo. Quindi credo che le sorti della Sicilia siano assolutamente legate alle sorti del governo che ci sarà a Roma. A sinistra SEL dovrà vedersela con Rivoluzione Civile di Antonio Ingroia. Lei pensa che l'ex PM possa togliervi dei voti oppure…? Ma io penso che Ingroia abbia fatto la sua scelta, cioè la scelta appunto di stare fuori dalla responsabilità di governo, una scelta che io rispetto ma che non condivido, perché oggi il paese ha bisogno di cambiamento, non ha bisogno di chi in qualche modo si sottrae alle responsabilità, ma di chi se le vuole assumere le responsabilità. Quindi ogni voto è utile, ma io ritengo che oggi come oggi non ogni voto è responsabile. Oggi si può cambiare pagina solo attraverso un gesto, cioè votare l'alleanza di centro-sinistra, PD-SEL. Questa è l'unica realtà di cambiamento. Se, voglio dire, si fanno voti diversi, ebbene si manifesta magari una protesta, ma non è protestando che migliorerà la nostra vita, è attraverso un buon governo che migliorerà la nostra vita. Quindi, a mio avviso, l'unica realtà, l'unica alternativa possibile oggi è PD-SEL. Questo è per voltare pagina. Ecco, lei ha parlato appunto di responsabilità di governo. Ieri Renzi, qui in Piazza Verde al Comizio insieme a Bersani, ha parlato del fatto che poi alla fine deciderà sempre il Presidente del Consiglio. Ora, si parla molto dell'accordo possibile dopo il voto fra Monti e Bersani. Vendola si è sempre schierato contro, ha usato parole molto dure. Voi siete preoccupati nell'eventualità in cui non ci sia una maggioranza al Senato, che ci possesse un'alleanza con i centristi? Ma noi abbiamo chiaramente sottolineato il fatto che siamo legati a doppio filo all'accordo Italia-Bene Comune. La carta d'intenti è alla base del nostro impegno, e quello noi rispetteremo. Chiunque vorrà rispettare quell'accordo Italia-Bene Comune, per noi va bene, ma su quella base. Quindi noi speriamo di vincere, abbiamo fiducia negli italiani, e gli italiani sapranno decidere in modo saggio. Dunque speriamo di avere la maggioranza di governo anche al Senato, perché è solo attraverso una maggioranza che si potrà veramente lavorare bene. Qui c'è da riprendere tutto in mano. Non c'è un settore che vada bene oggi in questo nostro paese. C'è da rifare veramente, c'è da rimettere in piedi il paese, l'Italia. I siciliani l'ottobre hanno dato fiducia al governatore Rosario Crocetta. Qual è il suo giudizio sull'operato di questi primi mesi del governatore? Il governatore si sta dando da fare, si sta adoperando per mettere mano agli aspetti più cruciali di questa isola. C'è tanto da fare anche dal punto di vista del governo regionale. Sul MUOS, per esempio, su queste antenne elettromagnetiche, lui ha preso una posizione molto chiara, condivisibile. Io ritengo che sia importante che ci sia una commissione indipendente e autonoma che valuti effettivamente il danno ambientale e della salute di queste eventuali antenne, perché questo sarà essenziale per poter decidere come procedere. Perché se queste antenne saranno nocive alla salute, è evidente che non si potrà continuare con il progetto di installare questa base. Dopodiché bisogna anche decidere che vogliamo fare della Sicilia, se vogliamo fare una terra che mette a frutto al meglio le proprie risorse, il proprio patrimonio culturale, il paesaggio, o se vuole diventare la Sicilia invece una zona militarizzata. Questo fa la differenza. Ringraziamo Laura Boldrini e le auguriamo un in bocca al lupo per le elezioni domenica e lunedì. Crepi il lupo, grazie a voi.